La mia vita è la mia vita. La mia vita è la mia vita. Giuliana, che succede? Ma che cos'hai? Lei non deve stare sola questa sera. Conosci l'Arborio? Sì. Non lo sapevo. Quando l'hai conosciuto? Da tuo fratello, quando era qui. Uno scrittore mediocre. Non sei d'accordo? No. Come puoi dire una cosa simile? Peggio per te. Hai perso Mozart. È un bel listo. Mi dispiace. Vieni a sederti vicino a me. Se la nostra principessa immaginasse quanti pochi tra i suoi invitati vengono qui per sentire musica. Lo sa benissimo, creda. È la penitenza che ci infligge per i nostri peccati. Tu vieni qui per corteggiare la contessa Teresa Raffo? Per penitenza un Mozart, due Schubert, quattro list. Una donna sensuale, bella. Io la desidero. Nessuna donna è riuscita mai ad occuparmi di sé come lei. Nel caso cambiassi idea. Posso assicurarla che la contessa Raffo non cambierà idea. Nel caso cambiassi idea. Sono a sua disposizione. D'accordo. È presente il signor Filippo d'Arborio. Saluto. Mio fratello Federico, la contessa Raffo. E te ne parlo anche perché, anche perché tu non faccia la sciocchezza che hai fatto oggi di portare in calesse per quella strada piena di buche. Giuliana è incinta. Nessuno deve sospettare di niente, hai capito? Allora tua moglie non ti dice la verità? Eh, sì, ti inganno. È magari un amante. Tu non sei più la stessa da quando c'è lui, sei felice. E tu non ti cuori dalla mia sofferenza. Tu lo ami. E pensando e amando lui, tu pensi e ami suo padre. Io ho amato e amerò sempre il padre di quella creatura. È la prima volta che mi trovo in una situazione come questa. È proprio vero che a un certo punto della vita si dà l'anima in cambio della giovinezza. E allora ci si trova ad amare senza difese. Io ho amato e amerò.